Valentina Vignali è tornata con Stefano? Sorpresa di San Valentino Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati insieme? La foto di San Valentino. Valentina Vignali sembra abbia perdonato Stefano Laudoni. La bellissima giocatrice di basket ha infatti lasciato i suoi fan a bocca aperta. La ragazza ha postato sul suo Instagram story una foto del tutto inaspettata. Nel giorno di San Valentino, la Vignali ha pensato bene di condividere uno scatto fotografico che la ritrae insieme a quello che si credeva essere ormai il suo ex fidanzato. Nella foto apparsa sui social, i due sorridono e sembrano avere tra le mani una specie di diario della loro storia d'amore. Il tutto è poi stato accompagnato da due cuoricini. . A quanto pare, tra Valentina e Stefano potrebbe essere tornato il sereno. . Dopo tanto spettacolare, lei potrebbe aver deciso di fare un passo verso l'uomo che l'ha fatta soffrire. . Valentina Vignali di nuovo insieme a Stefano Laudoni? Il post di San Valentino. . Già nelle scorse settimane si era tornato a parlare dell'ex coppia e di un loro possibile ritorno di fiamma. . Entrambi avevano infatti pubblicato degli scatti che mostravano come i due si trovassero negli stessi luoghi. . A catturare l'attenzione fu anche un'altra foto in particolare, dove sia Valentina Vignali che Stefano Laudoni erano sdraiati sulle stesse lenzuola. . Oggi, nella festa degli innamorati, la ragazza pare aver voluto confermare in qualche modo il ritrovato amore con il suo ex. . . In ogni caso, al momento, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione che possa rivelare come stiano realmente le cose. . 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